Mascherine all'aperto in vista delle eminenti festività natalizie e controlli sui green pass rafforzati sono i due argomenti del giorno che interessano e presto appunto coinvolgeranno tutti. A Chieti il sindaco Ferrara ha firmato questa mattina l'ordinanza che dispone l'utilizzo del presidio individuale a partire da lunedì prossimo, raccomandazione peraltro già espressa dal prefetto Forgione nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì. Il sindaco. Appena firmata e andrà in vigore da lunedì 6 dicembre e sarà valida fino alla fine del mese quindi al 31 di dicembre quindi durante tutto il periodo diciamo festivo natalizio sarà valida per tutto il territorio urbano cittadino. Quindi non sarà un provvedimento differenziato? No, all'inizio avevamo pensato alle strade del passeggio ma voglio dire abbiamo creduto che sarebbe stato incongruo limitarlo solo a questo quindi a validità per tutto il territorio cittadino senza limiti di orario. Sul super green pass sempre a Chieti questa mattina in questura c'è stato il tavolo tecnico per pianificare i controlli che scatteranno anch'essi da lunedì. Oltre che nelle attività commerciali nei bar e nei ristoranti saranno potenziati in primo luogo i controlli nel weekend in zone di shopping e movida e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. Sentiamo il questore Annino Gargano. Controlli che scatteranno quando e chi rifarà? Come previsto dal decreto legge 172 dal 6 di dicembre e saranno svolti senza soluzione di continuità da parte di tutte le componenti quindi da tutti gli attori dell'apparato di sicurezza della provincia. Particolare riguardo si diceva si avrà verso i controlli sui mezzi pubblici. Ancora il questore? In ossequio alle direttive dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza nell'operatività questi controlli riguarderanno tutte le fermate del trasporto pubblico locale e verranno svolti in modo da non arrecare ritardi né tantomeno nel provocare assembramenti nell'utenza. Quindi verranno svolti con fluidità in particolar modo alla discesa dei mezzi pubblici. Qual è il messaggio che si sente di dare a tutti i cittadini quest'ora? La necessità di collaborare tutti. È una necessità impellente dovuta anche al legato al rialzo del numero dei contagi. I controlli verranno svolti con la solita buonsenso e con grande attenzione ma non disgiunto da un rigore che il momento ci impone.